seconda edizione di ora tg ben trovati a voi tutti apriamo il giornale con la cronaca contrabbando di sigarette sull'asse africa sicilia prima operazione della procura europea in italia 13 gli arresti più della metà sono siciliani vediamo due organizzazioni criminali in affari tra loro che operavano tra la tunisia e la sicilia gestivano il contrabbando di sigarette provenienti dal nord africa su disposizione della sede palermitana della procura etnea la guardia di finanza ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 13 persone che farebbero parte della rete trasnazionale del traffico illecito le indagini hanno consentito di scoprire due gruppi il primo con base operative nella provincia di trapani e in tunisia si occupava di reperire le sigarette di contrabbando e di organizzare poi le spedizioni illecite via mare dalle coste africane in italia il secondo nel palermitano acquistava all'ingrosso le bionde introdotte in modo illegale per poi destinarle al mercato della vendita al dettaglio nel capoluogo siciliano le indagini avviate nell'estate del 2019 hanno accertato la ripresa del contrabbando di tabacchi esteri via mare attuato attraverso l'invio di imbarcazioni provenienti dal nord africa le cosiddette navi madri che al limite delle acque territoriali nazionali si incontravano con natanti di piccole dimensioni provenienti dall'italia i cosiddetti barchini sui quali venivano trasbordate le casse di sigarette le aree risultate maggiormente interessate agli sbarchi sono state il trapanese principalmente mazzara del ballo marsale campo bello di mazzara ma alcuni sbarchi sono avvenuti anche nel siracusano le sigarette una volta approdate sulla costa venivano stoccate in magazzini della disponibilità degli indagati nel territorio mazzarese da dove si rifornivano i componenti dell'organizzazione palermitana l'operazione denominata blue wave è condotta dal gico del nucleo di polizia economico finanziaria del capoluogo siciliano si è conclusa con l'esecuzione del primo provvedimento cautelare emesso da un ufficio italiano della procura europea e in particolare dai procuratori distaccati alla sede di palermo che si sono avvalsi di intercettazioni telefoniche e ambientali ma anche di appostamenti pedinamenti e videoriprese effettuati dai militari delle fiamme gialle si stima che il contrabbando di sigarette solo in italia determini perdite di circa 10 miliardi all'anno per l'unione europea e di oltre 400 milioni per il nostro paese il covid adesso iniziamo dai contagi in sicilia ieri 559 oggi 545 in discesa in discesa in forte discesa se consideriamo il fatto che oggi è stato processato praticamente il doppio dei tamponi rispetto alla giornata di ieri tant'è vero che il tasso di positività si attesta in sicilia nella giornata odierna all'1,68 per cento ben più basso rispetto alla media nazionale e contro il 3,79 per cento di ieri siciliano purtroppo si segnalano altre vittime 8 i morti così si arriva a 7.205 di decessi con covid dall'inizio della pandemia per quel che riguarda i ricoverati anche qui oggi notizie 351 le persone appunto in ospedale ieri erano 365 poi di queste 43 sono in terapia intensiva ieri erano 44 d'esta ancora preoccupazione però il caso catania perché sui 545 nuovi contagi di oggi ben 215 sono stati registrati a catania e provincia poi palermo con 96 nuovi casi quindi trapani con 58 e a proposito di covid dal 6 dicembre cioè tra una settimana scatta l'obbligo del super green pass in ristoranti bar palestre cinema piscine luoghi di ritrovo in generale si accederà solo col certificato verde e non con il tampone dal 6 dicembre scatta l'obbligo del green pass rafforzato con controlli interforze e sanzioni salatissime per i trasgressori a quanto emerso dalla riunione di ieri presso la prefettura di catania il provvedimento si estende su tutto il territorio nazionale i sindaci avranno l'obbligo di compriare gli elenchi delle aziende in cui verranno effettuati i controlli da ricapitare agli uffici territoriali del governo ristoranti bar piscine cinema palestre e più in generale ritrovi le sorvegliate speciali i titolari delle attività commerciali più esposte al possibile contagio dal virus o da covid 19 saranno responsabili dei controlli del certificato verde tramite l'applicazione che può essere scaricata su smartphone non sarà consentito l'accesso a coloro che esibiranno soli il tampone antigienico di cui in discussione la riduzione a 24 ore attualmente la validità copre le 48 ore le disposizioni del governo sono state adottate per mettere a riparo da un possibile nuovo lockdown l'economia del paese in vista delle festività natalizie il sindaco di aciriale stefano alista mani si intrattenuta in riunione con il comandante della polizia locale antonio molino che insieme agli altri comandanti delle forze dell'ordine presenti in città carabiniere polizia di stato e guardia di finanza dovranno organizzare pattuglie miste dedicate alle verifiche degli obblighi di legge per chi sgarra previste multe salatissime in caso di recidiva la chiusura dell'attività commerciale lo stato passa dunque quelle maniere forti per convincere gli indecisi a vaccinarsi a preoccupare la variante omicron sequenziata nell'africa australe e già sbarcata in europa su cui al momento si hanno poche informazioni sembra più aggressiva ma non eccessivamente letale dal lunedì prossimo dunque verranno rafforzati i controlli per i titolari delle attività commerciali inserite nell'elenco del ministero dell'interno scatta l'obbligo di accertarsi che gli avventori producono il certificato verde in corso di validità il primo cittadino di aciriale stefano lì ai nostri microfoni invita tutti a rispetto delle regole Io vi ringrazio dell'opportunità di diffondere questa notizia perché era anche uno degli obiettivi della riunione che abbiamo avuto ieri in prefettura in questo comitato dell'ordine perché dobbiamo fare capire alle persone che dal 6 dicembre ci sarà una stretta nei controlli e entrerà in vigore questa disciplina particolare del super green pass cioè del green pass che è soltanto che ha valore solo per chi ha fatto la vaccinazione non per chi ha usufruito di un tampone nelle ultime ore e tutta una serie di attività possono essere svolte soltanto in presenza di super green pass quindi i controlli verranno ci saranno delle pattuglie interforce quindi carabinieri polizia locale polizia e guardia di finanza che saranno dedicate proprio a questi controlli e andranno a che verranno effettuati all'interno di questi particolari esercizi che sono le palestre, le piscine, i cinema, i ristoranti, i bar dove per poter accedere sarà necessario disporre di questo super green pass. Dunque saranno servizi effettuati anche non solo durante il giorno ma anche durante le ore serali? Assolutamente quindi saranno servizi con questo scopo specifico cioè non saranno la polizia mentre fa dei controlli sul territorio va a fare anche i controlli sulla presenza di personale che non ha il super green pass ma saranno invece proprio controlli mirati su questa su questa azione. È una direttiva che arriva dal ministero che hanno recepito i prefetti e a loro volta i prefetti l'hanno trasmessa ai sindaci. Torniamo in cronaca ai carabinieri di Catania in prima linea contro i maltrattamenti agli animali. Nel 2021 27 persone denunciate interrotte numerose gare clandestine di cavalli. L'ultima nei giorni scorsi nelle campagne di Nicolosi. L'ente nazionale protezione animali che ha sottoscritto un protocollo d'intesa con i militari dell'arma ha presentato tre denunce a Catania e oltre dieci in tutta la Sicilia. Ringraziamo, afferma Carla Rocchi, presidente nazionale EMPA, per il prezioso operato dei carabinieri che ancora una volta hanno portato alla luce una realtà di sfruttamento e maltrattamento di animali che soprattutto in Sicilia è sempre presente. Vedete le immagini dell'ultima operazione. Ed intanto i finanzieri del comando provinciale di Catania nell'ambito dei controlli al contrasto della commercializzazione di prodotti illegali e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori hanno sequestrato l'andazzo oltre 800 prodotti di vario genere tra cui apparecchi elettrici e giocattoli. Il negozio era gestito da imprenditori di nazionalità cinese. Si tratta di materiale elettrico a bassa tensione per la maggior parte luci di Natale, giocattoli ed altra merce priva di standard di sicurezza previsti dai regolamenti della comunità europea. Catania, via Ballo, torniamo a parlare di viabilità nella zona dove la scorsa settimana è stata arrotata e uccisa una 79enne mentre attraversava la strada. Attraversamenti pedonali rialzati su via Giuseppe Ballo a Catania. L'appello lanciato dal presidente del quarto municipio Erio Buceti dopo l'incidente mortale della scorsa settimana quando una 79enne è stata travolta e uccisa mentre attraversava da un'auto il cui conducente si è fermato per prestare soccorso viene raccolto dall'amministrazione comunale attraverso l'assessore alle manutenzioni Pippo Arcidiacono che fa sapere di un intervento immediato nella zona affinché i mezzi marcino ad una velocità ragionevole riducendo il rischio di mettere a repentaglio l'incolumità dei pedoni. Dossi e di vieto di superare i 30 chilometri orari su via Ballo come in altre arterie viarie della città. Necessarie le segnalazioni all'assessorato in via Torquato Tasso 1 a Catania. Spiega Arcidiacono. Sì in effetti questo anzi questo episodio approfitto per dare un abbraccio alla famiglia di quanto è successo e devo dire che assolutamente l'intervento è a questo punto necessario e opportuno è quello di fare una strisce rialzata per cercare sperando di ridurre la velocità dei mezzi in generale delle macchine insomma quelli dei quali devono cercare di comprendere che la città non può essere attraversata a questa velocità perché soprattutto nei momenti un po' più bui della giornata i rischi che chi attraversa può correre sono davvero tanti comunque anche lì ho chiesto ai residenti di mandarmi una foto dove loro vogliono che vi si faccia la strisce rialzata la faremo anche lì in tempi relativamente brevi il tempo di fare la determina e la realizzazione quindi credo che nel giro di una settimana provvederemo a fare questa cosa qui e la farò in altre parti della città perché purtroppo le scorribbande lo dico proprio con collera sono la regola in questa città quotidianamente ed è un problema serio e penso e ne parlerò col sindaco se non è il caso in certi posti di ridurre della velocità da 50 a 30 perché davvero non so quali mezzi utilizzare per poterlo fare capire spero che questi accadimenti bruttissimi perché la perdita di una nostra concittadina per questi eventi pesanti è davvero spiacevole può essere chiunque di noi una nostra mamma una sorella un amico chiunque è davvero speciale quindi ridando un abbraccio alla famiglia almeno in via ballo farò prestissimo questa cosa e dico da questo emittente che i residenti che hanno notato scorribbande in altre zone della città che invitano i poco responsabili alla velocità eccessiva di fare riferimento a me personalmente all'ufficio per poterli mettere in evidenza segnalarli e laddove ci sono le condizioni interverremo è un uomo di 57 anni è morto stamattina sulla strada statale 385 all'altezza di palagonia si sarebbe scantato con la sua bicicletta contro un camion parcheggiato la dinamica dell'incidente però ancora non è stata del tutto chiarita è stata disposta l'autopsia del cadavere per verificare se il poveretto si sia sentito male o se abbia sbattuto contro il camion peraltro motivo morto sul colpo i soccorritori giunti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso del 57 anni ad acereale il comune pianifica lavori di sistemazione di alcune piazze pubbliche 30 anni di contenzioso con i proprietari concluso con un accordo bonario e piazza francesco pataneda lo scorso mese di dicembre acquisita al patrimonio pubblico verrà riqualificata e restituita alla piena fruizione l'assessore alla manutenzione del comune di ecileale salvo grasso annuncia inoltre che grazie al fondo di coesione per il sud la città è stata ammessa a finanziamento complessivo di 61 mila euro da spendere al ripristolo del verde pubblico e di adeguamento strutturale di parchi e giardini pubblici piazza pataneda primaria verde con un annesso parcheggio ad essere inserita nel programma di interventi urgenti da parte dell'amministrazione capitozzati gli alberi ad alto fusto giusto in tempo con le violente folate di vento che stanno caratterizzando questo scorcio di stagione eliminando il pericolo di distacco di grossi rami che avrebbero potuto colpire automobiliste e pedoni i prossimi interventi pianificati riguardano la cura del verde il ripristolo della pubblica illuminazione vandalizzata della fontanella ornamentale del beverino e dei cestini porta rifiuti lo slago intitolato al pittore francesco pataneo ricettacolo di rifiuti piazza dispaccio e non sono mancate le segnalazioni di case di prostituzione in quello che era una sorta di giungla in centro città in una zona residenziale densamente abitata con diverse attività commerciali presenti oltre all'attenenza della guardia di finanza recentemente trasferitesi nei nuovi locali il macchiage all'area verde della città è legato a precise tempistiche di intervento appena la restituzione dei fondi statali l'assessore alla manutenzione grasso o per stretto contatto con il collega al verde pubblico la rosa calendarizzati interventi che riguardano varie piazze cittadine dopo che alla fine dello scorso anno è stato chiuso un contenzioso abbastanza vecchio e quindi una situazione si è sbloccata finalmente una situazione annosa adesso siamo stati nelle condizioni di poter impiegare circa 61 mila euro grazie al fondo di infrastrutture sociali il cosiddetto decreto sud per riqualificare questa piazza e altre tre piazze realtà nel territorio 10 reale e gli interventi in questa piazza sono di manutenzione del verde una manutenzione importante e di rifacimento di alcune parti di edilizia più diciamo piccole e della soprattutto della pubblica illuminazione che per una causa del vandalismo è stata assente ormai negli ultimi anni non era più presente nessun tipo di corpo illuminante funzionante adesso invece verrà riqualificata tutta a led mentre invece gli altri interventi saranno a piazza santa chiara e anche in quel caso ci sono stati parecchi atti di vandalismo e quindi bisogna ripristinare e portare a led la pubblica illuminazione e ci sono degli interventi sul verde pubblico le altre due piazze sono la piazza garibaldi dove c'è un intervento non molto invasivo sul verde e sull'impianto di irrigazione e soprattutto un altro importante intervento verrà fatto nella villetta di guardia dove verrà ripristinata l'impianto di illuminazione che in questo momento è abbastanza malmesso e malfunzionante e a catania la regione manda in gara la nuova cittadella giudiziaria che sorgerà al viale africa nell'ex palazzo delle poste si sono chiuse infatti le operazioni preliminari per cui l'urega procederà il 10 dicembre alla pubblicazione della gara d'appalto per 40 milioni di euro per la costruzione della nuova casa della giustizia del capoluogo etneo risaneremo le ferite del degrado aprendo la stagione a lunga attesa della rivalutazione urbana infrastrutturale della città commentato l'assessore regionale alle infrastrutture marco falcone le onorificenze dell'ordine al merito della repubblica italiana concesse dal capo dello stato consegnate a catania dal prefetto quello odierno è certamente un giorno di festa per chi riceve il riconoscimento ma anche per la repubblica quindi per tutti gli italiani che riconoscono il merito di questi concittadini al servizio della collettività così il prefetto di catania maria carmela librizi ha aperto la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'ordine al merito della repubblica italiana concesse con decreto del presidente della repubblica a tutti coloro i quali si sono distinti per meriti verso la nazione una cerimonia sobria che si è tenuta nei locali del centro direzionale nuova luce della città metropolitana di catania sono esempi di di dovere compiuto di anche di solidarietà è un diciamo un esempio anche per le giovani generazioni quindi è importante dare questo riconoscimento e far sì che a questo riconoscimento oggi abbiamo dei bambini presenti che consegneranno anche loro le onorificenze proprio per far sì che queste persone possano avere ancora essere considerati un esempio è un modello di cittadinanza attiva la pergamena la cavaliere è stata consegnata ad antonio la ferrara funzionario del dipartimento della protezione civile nonché presidente dell'associazione futur lab che si è particolarmente distinta nel sociale poi a gianfranco truglio funzionario della polizia di stato destinatario per motivi di servizio di diversi riconoscimenti per merito per le tante azioni svolte quindi a per carmine sic a comandante del nucleo operativo dei carabinieri di catania che durante le fasi della pandemia ha adottato le misure necessarie a supporto della popolazione è un grandissimo onore innanzitutto ricevere questa onorificenza ed è un un onore un uno sprone a sempre meglio operare ufficiali della repubblica giuseppe coradagosta funzionario direttivo alla procura della repubblica di catania fondatore dell'associazione antimafia agosta figlio del maresciallo maggiore alfredo agosta vittima del dovere ucciso dalla criminalità organizzata a catania poi il tenente colonnello dei carabinieri ottavio chiarenza non presenta la cerimonia per l'impegno profuso durante l'emergenza da covid 19 prima ancora il prefetto ha consegnato al caporal maggiore davide giovanni grasso la medaglia di vittima del terrorismo per riconoscere l'alto valore dell'uomo del soldato in afghanistan dove nel corso di un movimento tattico riuscì ad intuire il pericolo scorgendo un kamikaze che con la sua autovettura si stava per scagliare contro il convoglio militare del caporal maggiore che riuscì a deviare l'autoblindo così evitando guai peggiori alla sua persona e agli altri militari in servizio una cerimonia doverosa all'interno di un contesto temporale quale quella attuale dove vi sono tanti eroi negativi tanti miti generazionali assolutamente non qualificanti e dove giusto soprattutto per i nostri giovani raccontare le eccellenze del nostro territorio la cerimonia è stata allietata da 12 piccoli violinisti dell'istituto comprensivo malerba di catania accompagnati dalla dirigente scolastica agata pappalardo e dalla maestra maria antonietta giangrasso che sotto la direzione del maestro emilia belfiore hanno eseguito lino d'italia e brani del loro repertorio il sistema della mobilità il caso di dire sempre movimento oggi importante riunione a catania in casa mts vediamo l'azienda metropolitana trasporti e sosta di catania aderisce ad agens l'associazione di categoria datoriale aderente a confindustria che annovera le più importanti aziende di trasporto pubblico italiane ne fanno parte l'ast in sicilia ma anche l'atac di roma l'atm di milano la mn di napoli il gruppo trenitalia e trenord nella sede della mts alla zona industriale di catania incontro tra l'amministratore unico giacomo bellavia ed ericogiana presidente nazionale di agens un'occasione per illustrare le ragioni dell'adesione ma anche le numerose opportunità di sinergia con le altre aziende di mobilità delle città metropolitane italiane siamo contenti di poterci confrontare con le realtà di altre città metropolitana proprio per poter fare sinergia e poter come dire anche trarre spunto da buone pratiche che vengono sviluppate nel resto d'Italia quindi oggi con la visia presenteggiana vogliamo ecco rilanciare e potenziare questa sinergia anche nel territorio siciliano cercando ecco di rappresentare in tutti i contesti le istanze del trasporto pubblico locale le istanze delle aziende pubbliche di area metropolitana che appunto rappresentano delle compagini fondamentali per il sistema della mobilità e dei trasporti in Sicilia e nel resto d'Italia siamo molto felici agens è un'associazione che mira a mettere insieme le principali eccellenze nel trasporto pubblico in Italia e sicuramente mts è una di quelle lo scopo principale di agens è quello di mettere a fattor comune tutte le esperienze le migliori esperienze delle aziende associate lo facciamo a livello nazionale lo faremo in particolare in Sicilia grazie alla presenza di alcune tra le più importanti aziende siciliane all'incontro con giana che anche il direttore generale dell'atm di milano è intervenuto tra gli altri il presidente dell'ast ghettano tafuri abbiamo colto subito la particolarità è un'azienda facile smart i collochi avvengono in maniera semplice e con contenuti importanti e quindi questo secondo me in un sistema che tende a velocizzare ogni processo è un valore aggiunto abbiamo creduto quindi in questa realtà abbiamo conosciuto il presidente giana e subito è nata una sinergia con ast che è stata la prima azienda siciliana e forse tra le prime del meridione d'italia a volere aderire anche con riconoscimenti all'interno della compagine associativa e quindi siamo felici del fatto che esista questa realtà che la sicilia sia entrando e che oggi un'altra realtà importante venga venga associata a questo gruppo domenica prossima a catania fortino slow food che non è solamente un modo per stare insieme domenica al fortino modo anche per rilanciare la riconversione del quartiere alle dinamiche turistico culturali domenica 5 dicembre porta garibaldi il fortino saranno protagonisti di una iniziativa che è una festa di quartiere un'occasione di incontro un tentativo di valorizzare una piazza bellissima però rimasta sempre ai margini ma carica di dignità e tanti simboli a partire appunto dalla fortino e così nasce fortino slow food che segna il connubio tra l'associazione acquedotte le competenze di slow food il patrocinio del comune di catania il coinvolgimento del quartiere che in piazza palestro dalle 8 e 30 alle 14 e 30 di domenica prossima metteranno in mostra prodotti e non gastronomici artigianato d'eccellenza degustazioni vino a calice ma anche un laboratorio di cioccolato per bambini installazioni artistiche che dicono no alle violenza sulle donne l'evento è stato presentato oggi dall'associazione acquedotte che da diversi anni attiva nella valorizzazione dal centro storico in particolare dell'asse di via garibaldi è vero che è un luogo simbolico il fortino per catania però è anche un po dimenticato fondamentalmente quindi l'idea di portare dell'energia nuova in questo in questo in questi spazi attorno alla porta dalla piazza palestro e anche aprire al pubblico perché pochi catanesi sanno che in realtà questo monumento settecentesco così importante e così simbolico ha anche delle viscere ha delle viscere e ha la possibilità di essere visitato internamente quindi l'idea di aprire che oltretutto è un progetto che insieme all'amministrazione attuale stiamo portando avanti e sembra concretizzarsi sempre sempre di più intanto questo sarà un primo un primo un primo assaggio e proprio all'interno accoglieremo delle installazioni in realtà sono tre tre artisti creativi catanesi sul che lanciano appunto diciamo sul tema della violenza della contro la violenza sulle donne slow food un'esperienza tra gusto storia cultura crediamo che attraverso il cibo si può fare una rivoluzione oggi diciamo sempre che attraverso la spesa è un atto politico quindi decidiamo a chi dare i nostri soldi e in quell'acquazione quel giorno saranno presenti tantissimi produttori di presidi di prodotti dell'arca del gusto avremo modo di fare anche delle degustazioni all'interno del mercatino ma l'obiettivo principale è quello di ridare vita a uno dei più bei posti del centro storico di catania secondo me che è la porta garibaldi il turismo sotto le feste natalizie una grande opportunità di ripresa per uno settore che ha registrato numeri in perdita da due anni a questa parte a causa ovviamente della pandemia vola il turismo a catania la vigilia delle festività natalizie l'auspicio è che le prenotazioni sino ad ora arrivate agli operatori del settore vengano confermate italiani e stranieri trascorreranno parte del periodo a cavallo tra il 2021 e il 2022 dalle nostre parti a fare il punto è la presidentessa delle guide turistiche catanesi giusi belfiore che evidenzia come da due anni a questa parte il comparto turistico abbia subito un durissimo colpo a causa delle restrizioni provocate dalla pandemia il dubbio che le zone possano colorarsi e modificare la fruizione dei luoghi e ciò che frena i visitatori che comunque scelgono la sicilia scelgono catania abbiamo ricevuto parecchie richieste ci sono addirittura delle prenotazioni già effettuate che riguardano il periodo subito successivo al natale quindi dal 27 al addirittura dopo capodanno e la gente ha voglia di venire a scoprire la città ci chiedono itinerari ed altro l'unica considerazione che fanno però con un po di ottimismo da entrambe le parti è quella di sperare che comunque altrove non non succedano non cambino i colori ecco che tipo di turisti di che tipo di turisti parliamo italiani ma anche stranieri allora c'è un turismo italiano che è quello del capodanno che è organizzato e anche spontaneo individuale per cui abbiamo avuto richieste sia da una parte che dall'altra di attività che possono essere attività di gruppo o singole visite in città poi c'è un turismo residuo che è quello invece internazionale che è più legato alla Francia che non è tedesco in questo momento assolutamente no e che invece è spagnolo perché stanno continuando ad arrivare da alcuni paesi dell'est per questo momento ci sono turisti in piccola dose novembre la seconda metà di non novembre non è mai un momento perché è un momento di transito fra la fine dell'autunno che è un momento alto perché economicamente meno oneroso per il turismo e il natale in questo momento abbiamo ancora gente in giro con grande piacere quindi diciamo che i segnali sono ottimi e speriamo che il resto del mondo stia un po calmo un po quieto e che noi possiamo utilizzare questa questa possibilità abbiamo una media di giorni di permanenza dei turisti allora io utilizzo un dato statistico che è quello più recente legato alle esperienze telefoniche di questi giorni solitamente vanno dal 29 30 1 2 3 4 fino all'epifania quindi o arrivano il 29 vanno via attorno al 3 o arrivano e fanno una settimana intera ma in quel caso è un prodotto che si chiama sicilia e inizia subito dopo natale finisce poco prima dell'epifania però quello è il momento più interessante abbiamo avuto delle richieste di turismo straniero invece verso natale quindi un po prima di natale e poi abbiamo qualche richiesta del sì 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 legato alle agenzie di viaggio e che riguarda sempre il periodo di capodanno quindi insomma se i vincoli rimangono questi dovremmo dovremmo farcela ecco è stato un periodo quello scorso pesante per le guide turistiche che hanno dovuto fare i conti con una sorta di desertificazione noi abbiamo detto lo zero assoluto lo zero assoluto e abbiamo lavorato l'anno scorso nel periodo dell'apertura quindi settembre e ottobre a novembre abbiamo dovuto chiudere anche addirittura le passeggiate locali perché quando noi cerchiamo di applichiamo la regola la applichiamo a prescindere dalla provenienza del visitatore quindi siamo stati veramente nello zero assoluto rieccoci in studio dopo la pubblicità non ci sono aggiornamenti termina la seconda edizione di ora tg la prossima domani alle ore 14 grazie per la vostra compagnia buon proseguimento di serata a voi le previsioni meteorologiche per la giornata di domani mercoledì 1 dicembre il cielo sarà coperto da qualche nube ma il sole farà capolino i venti saranno deboli i mari leggermente mossi uno sguardo adesso le temperature sul capoluogo etneo si mantengono stabili minima e massima rispettivamente di 15 e 16 gradi centigradi le città più calde saranno palermo e trapani con 17 gradi la più fredda e nottata come di consueto nell'entroterra ad enna dove saranno rilevati 7 gradi centigradi grazie a tutti 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 grazie a tutti